Salvini Il coordinamento del centrodestra di governo, che in realtà il leader leghista vorrebbe in futuro fosse allargato anche a Giorgia Meloni visto che, il centrodestra si sta preparando ad essere più reattivo, più veloce e più compatto. Non possiamo marciare divisi per poi presentarci uniti. Per l'idea di paese e non di partito per i prossimi anni, i ministri sono esecutori di questa idea di paese che gli elettori del centrodestra hanno, dice Salvini, impegnatissimo nel ruolo di nuovo federatore, come si considera, del centrodestra. Esattamente quello che non vogliono i tre ministri azzurri, Gelmini, Carfagna e Brunetta. Che si muovono all'uniscono, dichiarano congiuntamente, si riuniscono con frequenza e hanno un'area di riferimento allargata a vari parlamentari. Pochi, secondo i fedelissimi di Berlusconi, e che, non faranno cambiare idea a leader, non gli piace questo atteggiamento, l'insubordinazione. Sì perché ormai da giorni va avanti la sotterranea guerriglia tra i «governisti» e i vertici azzurri, Berlusconi compreso, accusati di essere al traino di Salvini e Meloni. Per questo i tre fanno sapere che all'incontro andranno con «spirito costruttivo», ma una cosa è coordinarsi, altra omologarsi, fai e lega restano partiti diversi con leader diversi, e la battaglia è per difendere la nostra identità liberale ed europeista. Grazie a tutti.